Deschamps vuole dare un ulteriore brio alla squadra, la sinistro e il gol! Gol della Juve! Incredibile botta di sinistro con Foginov che va a raccogliere l'ovazione della sua curva. Micidiale Valery Bojinov, due azioni, due gol, non si era visto per tutta la partita, si è scomodato solo per segnare e questo è davvero un gran gol!